Buongiorno, sono Antonella Tiburzi e insegno didattica della storia ai laboratori. In questa breve lezione vorrei illustrarvi e spiegarvi alcuni strumenti e alcune risorse che ci vengono incontro dalla tecnologia per poter organizzare una lezione di storia digitale. La didattica della storia digitale si rende estremamente importante, adesso non soltanto per questo periodo in cui appunto stiamo vivendo questa pandemia che costringe un miliardo e mezzo di studenti a stare a casa e quindi non poter accedere alle strutture scolastiche, ma ciò che è più importante è che bisogna capire che comunque la didattica della storia digitale è importante anche nelle nostre comuni lezioni di storia e pertanto io ho preparato un PowerPoint che appunto condivido con voi in cui appunto cercherò di illustrare, cercherò di far vedere quali sono tutti quei siti che sono a disposizione degli utenti e che permettono appunto di lavorare su diversi strumenti, risorse e programmi che ci aiutano appunto poi nella produzione di lezioni di grande rilievo anche non soltanto per l'utilizzo appunto di questi strumenti ma anche perché favoriscono proprio anche l'apprendimento degli studenti. In questa prima foto appunto ho voluto mettere gli studenti di una scuola a cavallo tra 800 e 900 in cui appunto si vede soltanto una lavagna e dove viene riprodotta appunto un tipo di scuola di quel periodo, mentre invece appunto dovremmo considerare appunto l'idea di una didattica della storia ai tempi appunto del Covid-19 e come oggettivamente come anche una struttura a cui poter far riferimento anche quando si spera appunto usciremo da questa pandemia. La didattica e gli strumenti che vengono messi a disposizione in realtà poi sono risorse che possono essere adattate anche alle altre materie, alle altre discipline. Le piattaforme e i siti appunto di didattici digitali e online che ci sono diciamo sia a disposizione sono veramente tantissimi. Il primo appunto interessa il sito dell'UNESCO, l'UNESCO appunto l'Agenzia delle Nazioni Unite per quanto riguarda la tutela del patrimonio, ha deciso di mettere online una ampia veramente gamma di risorse digitali in cui si può appunto lavorare e trovare proprio diciamo così il format trovare anche le lesson plan, trovare diciamo quegli strumenti che possono esserci veramente utili durante la nostra lezione di storia online. Per cui invito ad andare su questo sito in particolare e scoprire quali sono tutti i programmi e le risorse che sono state messe a disposizione. L'altro sito molto importante è Google Earth. Google Earth diciamo che va virtualmente a sostituire quella che in questo periodo avremmo diciamo così organizzato, ovvero un'uscita didattica. Se non è possibile più naturalmente organizzare queste cose per questo periodo almeno si può ugualmente fare lezione, spiegare, raccontare, accompagnare la nostra classe in qualsiasi posto del mondo. Google Earth ci permette di raggiungere quel luogo, si tratta di una grande, come se fosse una grande mappa ma che diversamente appunto da quella cartacea in cui i luoghi sono riportati in modo piccolo naturalmente piccoli spazi mentre invece magari si tratta di ampi, di ampi e enormi spazi. Ecco Google Earth ha mappato circa l'ottanta per cento dei luoghi del mondo per cui con la classe possiamo virtualmente andare veramente ovunque. Va da sé che l'emozione che si prova andando fisicamente in un posto naturalmente non è la stessa, però attenzione spesso con la classe non si può andare ovunque naturalmente nel mondo, mentre invece ecco attraverso questo sito è possibile proprio a volte anche entrare nelle vie e siamo noi che possiamo scegliere il luogo e in particolare anche le vie delle città che si vogliono magari visitare. Quindi è molto molto importante. Uno strumento interessante che ci viene incontro per organizzare una classe digitale è la Classroom di Google. La Classroom di Google è una, anche qui è una piattaforma che permette agli insegnanti di caricare su questa piattaforma e su questo format, diciamo così, una veramente ampissima produzione di documenti, molto di più di quanto potremmo fare in versione cartacea. Per cui possiamo pubblicare dei files, possiamo pubblicare delle mappe, possiamo pubblicare delle infografiche, possiamo pubblicare dei filmati, dei video, delle fotografie che magari potrebbero risultare pesanti in forma soltanto attraverso magari Gmail o attraverso un'email, mentre invece attraverso appunto Classroom possiamo dare agli studenti una veramente grande opportunità di lavorare su diversi strumenti e su diversi documenti. La stessa cosa possiamo dire di Edmodo. Anche Edmodo si presta, diciamo così, a queste informazioni dal momento che anche su Edmodo è possibile organizzare una classe digitale e che dà la possibilità appunto a tutti gli studenti, ovunque essi si trovino, di interagire appunto con quell'insegnante, con gli insegnanti e anche qui è possibile caricare tantissimi documenti. L'altra piattaforma importante è Scology. Scology è uno strumento che viene usato moltissimo, ad esempio nel Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti, in particolare per coinvolgere quegli studenti che per ragioni di salute, ad esempio, si trovano negli ospedali. e quindi non possono, diciamo così, non possono accedere alle classi, non possono appunto trovarsi con i loro compagni, però questo, diciamo così, fa sì che possono ugualmente, diciamo così, partecipare alle attività che si fanno in classe. E' importante avere appunto un computer e a volte può capitare che anche l'insegnante non può raggiungere lo studente all'ospedale e attraverso questo strumento appunto Learning Management System è possibile invece appunto comunque favorire l'inclusione dello studente all'interno della propria classe. In questo periodo, diciamo così, in cui si sottopone appunto gli studenti anche a delle domande, il sito che vi ho proposto, SurveyMonkey, sostituisce in modo virtuale e digitale, diciamo così, quello che è il vecchio questionario. Il questionario che abbiamo usato, diciamo così, per indagare magari sulle origini, sulle pregresse, diciamo così, formazioni dei nostri studenti all'università, prima di arrivare all'università, permettono invece appunto attraverso SurveyMonkey agli studenti di accedere a questi questionari attraverso una serie diversa di strumenti, che vuol dire non si devono, non si possono, diciamo, limitare soltanto ad una domanda e ad una risposta. Si può sottoporre agli studenti una serie ampia, vasta, di compiti e di consegne da organizzare. Si può chiedere di fare un filmato, si può chiedere di fare un documentario, di fare una ricerca, perché la piattaforma ci permette di, diciamo così, caricare una serie di strumenti che possono essere di grande utilizzo sia per l'insegnante ma anche per gli studenti. L'ultimo progetto che vi ho messo, che è molto, molto importante anche, diciamo così, ultimamente, ed è un sito dell'Unione Europea che si chiama appunto e-tweening. E-tweening, diciamo così, permette a scuole collocate in tutta l'Unione Europea che decidono di fare un progetto insieme, nel senso che se una scuola italiana, ad esempio, decide di mettere su questa piattaforma una ricerca che vorrebbe sviluppare, ampliare, un progetto, un piano, e trova un'altra scuola o più scuole naturalmente sempre sul territorio europeo che sono, diciamo così, che sono d'accordo su questo progetto e che decidono appunto di svilupparlo poi insieme. Questo dà la possibilità, diciamo così, di creare una didattica ma anche uno scambio di informazioni, uno scambio anche di didattiche, perché sappiamo che in ogni scuola dell'Unione Europea ci possono essere dei programmi e degli strumenti diversi con cui si fa didattica. Mentre invece appunto attraverso e-tweening si possono condividere le didattiche, le formazioni, le preparazioni, gli strumenti, i libri virtuali, diciamo così, gli e-book che abbiamo magari prodotto nelle nostre scuole. Ecco, alla fine di questi progetti si può anche ottenere un quality level da parte dell'Unione Europea. che poi pubblica il nostro progetto appunto su un sito, un link speciale dell'Unione Europea in cui appunto il lavoro dei ragazzi e quello degli insegnanti possono essere condivisi e possono anche essere lasciati in eredità agli studenti appunto delle altre scuole d'Europa. materiali didattici, materiali didattici che sinceramente ci vengono messi a disposizione sono infiniti, molto molto di più rispetto a quelli che produrremmo in versione cartacea. Io qui vi ho messo alcuni siti che vi assicuro sono straordinari, in cui è possibile, diciamo così, scaricarsi, preparare e organizzare delle vere e proprie lezioni di storia digitale perché ci vengono messe a disposizione praticamente una ampissima e vasta gamma di fotografie, di fonti, diciamo così, storiche che ci possono servire proprio per organizzare una vera e propria didattica digitale della storia e sono strumenti eccezionali perché sono stati preparati proprio dagli insegnanti del mondo anglosassone e statunitense che col tempo hanno risentito del fatto che magari con lunghe distanze non era possibile spesso condividere tutto questo materiale che una scuola aveva prodotto, per cui hanno deciso di digitalizzarlo e metterlo a disposizione e questo è uno strumento eccezionale perché ci permette proprio di interagire anche con le nostre esperienze e quindi creando anche una società, una comunità di insegnanti di storia in cui possiamo sicuramente trovare degli spunti e degli strumenti di miglioramento anche delle nostre attività didattiche. L'altro sito appunto intorno è Teaching History che è estremamente importante perché è stato calibrato apposta, diciamo così, proprio per la produzione di tematiche storiche e poi sotto appunto queste tematiche storiche vengono messi delle lesson plan che ci permettono appunto di scaricarci gratuitamente delle lezioni già fatte e che magari a noi toccherà soltanto il compito di oltre di tradurle nella lingua con cui facciamo lezione ma soprattutto anche di adattarle alla nostra classe. Ma tuttavia questi link ci danno già degli schemi di grande utilizzo che possiamo appunto, di grande facilità che possiamo appunto utilizzare poi nelle nostre classi. L'ultimo sito così importante anche ci permette appunto di organizzarlo e di adattarlo proprio alla nostra classe quindi sulla base del grado di insegnamento, sulla base della materia in che modalità vorremmo poi, diciamo così, esporre la nostra tematica il nostro libro di storia, i books magari ecco, tutti questi strumenti ci vengono, diciamo così, offerti in forma assolutamente gratuita e soprattutto ci dicono quali sono gli strumenti, diciamo così, di Word piuttosto che di un altro programma che ci possono aiutare nella esposizione di questo testo. Una lezione di storia si fa soltanto ed esclusivamente se ci sono le fonti diciamo così, non è possibile prescindere dalle fonti abbiamo quindi le fonti materiali naturalmente la fonte che ci viene da un luogo storico quindi in questo la geostoria si rende essenziale diciamo così per poter produrre una vera e propria lezione importante di storia e poi ci viene dall'iconografia, dalle fonti mute, dalle mappe anche dalle mappe storiche, dai diagrammi, dalle statistiche diciamo così, sono tutti materiali che aiutano chi studia a trovare diciamo così l'origine di una tematica perché si affronta quel tema e perché ci sono delle fonti diciamo così che ce l'hanno offerta, ce l'hanno portata e magari ce l'hanno anche spiegata il ruolo dell'insegnante però sarà quello di mostrare queste fonti se facciamo l'esempio facile delle fotografie spesso le fotografie, soprattutto quelle che risalgono al secolo scorso sono piccole come formato e quindi spesso non è possibile diciamo così anche per la loro qualità e per la loro importanza però nello stesso tempo non è possibile spesso per le classi potervi accedere pertanto la soluzione della digitalizzazione delle foto storiche è essenziale per poter diciamo così far capire agli studenti quanto è importante questa fonte perché soltanto attraverso la sua digitalizzazione è possibile anche approfondire quel tema la fonte iconografica è essenziale anche per cercare di riconoscere anche una tematica basta magari farci mostrare una foto per chiedere subito agli studenti a che cosa si riferisce, quale evento racconta e quindi sottoporgli magari anche delle domande sulla base di quella foto se prima appunto negli archivi io ho messo questa foto in cui appunto si vede un archivio antico tutte le carte questo è l'inventario naturalmente però tutte le carte che vengono messe a disposizione spesso sono troppo antiche per essere utilizzate per essere spesso non possono essere consultate spesso non possono essere neanche toccate ma non possono essere neanche fotografate o scannerizzate perché questo potrebbe rovinare il documento pertanto invece la digitalizzazione ci permette di accedere in modo infinito a questi documenti e renderli come strumenti importanti appunto per la nostra didattica di storia digitale la tecnologia in questo senso veramente ci apre un mondo un altro elemento chiave è quella della digitalizzazione delle mappe perché la mappa è così importante anche per la geostoria perché ci permette di localizzare un evento storico non possiamo prescindere la geografia dall'insegnamento della storia pertanto una mappa digitale ci permette di entrare in quel luogo di visitarlo virtualmente ma di entrarci anche e pertanto possiamo riconoscerlo meglio rispetto magari ad una piccola mappa che è stata messa su un libro che spesso diciamo così la carta non può riprodurre una grande mappa deve essere naturalmente piccola per dare spazio al testo ecco questo ci ruba un po' della importanza appunto della visualizzazione di una mappa questo è eccezionale lo stesso localizzare ad esempio un monumento che si richiama ad un evento storico ad un personaggio storico ecco non poterlo visitare in questo momento fisicamente però attraverso una visita virtuale ci permette di capire anche questa fonte se viene appunto digitalizzata ecco questo è il valore diciamo così della digitalizzazione delle fonti per questo sono di grandissima importanza il docente dovrebbe diciamo così utilizzare queste fonti anche diciamo così quando non solo fa didattica a distanza ma anche quando magari alla fine di un corso vuole rimanere in contatto con gli studenti di quel corso ecco attraverso la diffusione attraverso la condivisione di questi strumenti e di queste fonti può continuare diciamo così questo lavoro di formazione le video lezioni diciamo così sono essenziali in questo periodo abbiamo visto che senza questo strumento non avremmo potuto continuare la nostra didattica per cui per fortuna diciamo così sono sorti tantissimi programmi come appunto Teams quello che stiamo usando ma anche Meet ma anche Zoom ma anche Vimeo e moltissime altre piatteforme che possono essere diciamo così ci permettono di organizzare programmare reiterare e pubblicare e registrare diciamo così le nostre lezioni questo fa sì che un ragazzo che magari non ha capito bene qualche cosa che è stata detta ad esempio in una video lezione attraverso la registrazione può rivederselo più volte può soprattutto accedere a tutti quegli strumenti che noi mettiamo come sto facendo io adesso in questo PowerPoint tutti quegli strumenti che lui può usare anche dopo quella video lezione questo è molto importante perché noi possiamo caricare una quantità veramente infinita di file di PowerPoint di documentari di documenti di immagini che attraverso una semplice email potrebbero risultare troppo pesanti contestualmente alle video lezioni nel mondo anglosassone ma questo non soltanto nell'ambito della scuola o nell'ambito dell'università ma anche nelle formazioni a distanza che in realtà rendono molto più vicina in realtà colui che dà la lezione colui che offre la lezione rispetto agli ascoltatori ovvero i webinar webinar che sono uno strumento che rappresentano uno strumento eccezionale perché permette diciamo così di interagire con chi ci sta ascoltando e con chi ci sta anche vedendo perché ai lati diciamo così del video è possibile caricare anche qui una serie di strumenti e una serie di risorse con cui è possibile interagire o in diretta cioè nel momento in cui si sta appunto organizzando appunto il webinar oppure successivamente perché anche i webinar possono essere registrati questo ci permette di lavorare sul lungo termine su tutti quelli quelle risorse che l'insegnante in quel momento ha messo a disposizione questo ad esempio è usato nelle organizzazioni di storia online e del mondo soprattutto statunitense che usa il webinar praticamente quotidianamente più volte nel proporre delle lezioni di storia tematiche molto molto importanti perché appunto è la possibilità di interagire in modo contestuale ecco ma nello stesso tempo permette in questa interazione di sviluppare anche dei forum di sviluppare anche delle riflessioni critiche sia da parte dell'insegnante ma anche da parte di coloro che stanno ascoltando che stanno vedendo quella lezione e quindi si crea questa sorta di interazione formativa altamente formativa perché l'insegnante in diretta può rispondere a quelle questioni che lui stesso ha posto durante appunto questa formazione quindi è estremamente interessante i forum appunto che nascono diciamo così in questo periodo hanno un valore estremamente importante perché permettono agli studenti diciamo così di interagire con l'insegnante o con l'educatore che in quel momento sta facendo lezioni è ampiamente usato nella didattica della storia del mondo statunitense e del mondo del Regno Unito veramente educatori di storia convolgono gli studenti in dibattiti che sono finalizzati proprio allo sviluppo del loro personale proprio senso critico che è quello che un po' cerchiamo spesso quando facciamo didattica e quindi con l'aumento dei forum online la discussione diciamo si verte essenzialmente su cercare di trovare degli strumenti per sviluppare una cittadinanza digitale questo che fa sì diciamo che gli studenti con cui noi lavoriamo sono studenti che vengono definiti della generazione millennial però in realtà poi abbiamo visto che a parte avere un profilo sui social network diciamo così poi hanno hanno mostrato di non avere strumenti millennial cioè di non conoscere gli strumenti millennial per cui io penso che il ruolo dell'università sia anche attraverso le varie discipline quindi anche in una forma anche multidisciplinare o anche interdisciplinare è possibile diciamo così fornire anzi io ritengo che sia anche necessario fornire degli strumenti affinché loro sviluppino una cittadinanza digitale in grado di loro stessi produrre una formazione di tipo storico in questo mio caso però diciamo così anche esposta è anche estesa a tutte le altre a tutte le altre materie strumenti che possono essere usati per cercare di conservare tutto questo materiale che è stato fatto io ritengo che Google Drive o anche OneDrive sono piattaforme eccezionali perché è possibile veramente caricare tantissimo materiale su quello poter lavorare a lunga distanza vi risottopongo il Survey Monkey perché anche questo può essere utilizzato perché affinché gli studenti diciamo così sviluppino il loro senso critico attraverso però non soltanto una semplice risposta che potrebbero dare in un questionario di tipo cartaceo perché in questo loro hanno molto più spazio per poter veramente esprimere la loro creatività e la loro anche diciamo così interesse e entusiasmo per una materia quindi attraverso in forma di testo ma anche attraverso immagine video quindi verificando anche loro stessi i loro progressi e questo appunto lo possono fare come vi dicevo prima attraverso anche i twinings questa piattaforma in cui poter condividere le proprie ricerche i propri studi nell'ambito appunto delle scuole di tutta Europa quindi anche uno strumento eccezionale come vi dicevo prima se non è possibile organizzare delle uscite virtuali però è possibile ugualmente portare le nostre classi ovunque nel mondo come vi dicevo prima appunto Google Earth ha mappato una ottima diciamo una straordinaria percentuale di luoghi nel mondo e noi possiamo lo stesso spiegare illustrare organizzare un'uscita didattica portandoli direttamente in un luogo il sito che vi ho messo in evidenza è quello dei beni culturali i beni culturali italiani diciamo hanno mappato veramente quasi tutti i luoghi come musei aree archeologiche aree storiche monumenti vie storiche importanti del nostro paese e permettendoci appunto dandoci la possibilità di portarci la nostra classe virtualmente ma portando ce la va da sé che come dicevo prima l'emozione non è la stessa però attenzione spesso non è facile per una classe magari andare in qualsiasi parte d'Italia per poter organizzare una visita ecco a questo si aggiunge l'idea della metodologia appunto che viene che viene esposta nella didattica museale spesso in alcuni musei ripeto soprattutto del mondo anglosassone ma anche in Austria e in Germania è facile trovare in un museo un'area dedicata soltanto alle classi per poter poi approfondire discutere e confrontarsi con i temi che sono stati visti spiegati e letti diciamo così all'interno del museo quindi ugualmente noi possiamo diciamo così utilizzare la nostra didattica attraverso uno spazio diciamo così virtuale si tratta di una diciamo così condizione appunto di entrare sebbene in una dimensione tridimensionale però gli si dà la possibilità ugualmente agli studenti di entrare in un luogo e visitarlo quindi vederne proprio e apprezzarne anche la bellezza di quel patrimonio eccezionale e straordinario che abbiamo diciamo così sul nostro territorio i materiali per la didattica per l'uso appunto della didattica museale alcuni straordinari musei e io in particolare qui vi ho messo quello della della storia dell'Austria del 1900 in cui si trova a Vienna ed è un museo straordinario in cui appunto alla fine del percorso di visita c'è una bellissima sala dove è possibile diciamo così riunirsi con la classe e magari discutere approfondire e confrontarsi appunto su quello che si è visto ma all'interno di questa aula sono stati messi a disposizione dei materiali straordinari tutti gratuiti che possono essere presi e portati magari a continuare la didattica museale sarebbe sempre il caso di farla all'interno del museo ma può essere anche diciamo così portata avanti anche all'interno della propria classe il museo in particolare appunto Geschichte Osterreich Haus der Geschicht des Geschichtes Osterreich ha messo a disposizione online e io vi ho messo qua il link dove è possibile scaricarsi in lingua inglese e naturalmente in lingua tedesca il materiale per fare lezione e vi assicuro che è un materiale straordinario perché è un materiale che si basa sulle fonti iconografiche sicuramente ma si basa anche sulle fonti d'archivio quindi sul documento storico è possibile scaricarlo e sono spesso già fatte in formato di lesson plan è già una lezione che noi potremmo veramente riprodurre tranquillamente nelle nostre classi senza alcun sforzo se non quello magari di tradurlo nella lingua in cui facciamo facciamo lezione è veramente un materiale straordinario la fonte fotografica ancora online vi ripeto è estremamente importante perché come potete vedere ci rende possibile questa è una foto che è appunto l'arresto di Gavrilo Principe dopo l'assassinio e attentato all'Arciduca Francesco Ferdinando e re del trono dell'impero austro-ongarico e appunto in cui viene arrestato ecco questa foto nella sua originale formato cartaceo è molto molto piccola e naturalmente quando si affronta la prima guerra mondiale in una classe non è possibile portare una classe in archivio a Vienna per andarla a vedere però la sua digitalizzazione ci permette di accedere a questa importantissima fonte fotografica e su quello poter costruire una vera e propria lezione ci permette di scoprire il suo volto da vicino ci permette di utilizzare anche il contesto in cui è stata scattata il perché ed analizzare vedete più dal vicino le persone intorno in modo da poter creare una vera e propria fonte di informazione per raccontare quell'evento che poi diede il dio appunto allo scoppio della grande guerra il sito qua sotto che vi ho messo è storia digitale in cui appunto sono state digitalizzate tutte le fonti storiche e fotografiche di grande grande importanza ecco vedete la foto che è stata riprodotta appunto è quella dell'attentatore appunto di Avrilo Prince vedete questa anche è una foto molto piccola ma che non era possibile individuare il volto ma attraverso la digitalizzazione è stato possibile farlo una sostituzione appunto della linea del tempo cartacea è sicuramente la infografica la infografica ci permette di inserire in modo infinito in un testo infografico tantissimo materiale tantissime informazioni non soltanto di tipo fotografico ma di tipo informativo infografica vedete possono essere inseriti dei simboli che questo rendono diciamo così migliorano proprio anche l'immagine e l'apprendimento dello studente oppure possono essere caricate tantissime foto che sviluppano appunto anche l'attività memonica dello studente vedete possiamo utilizzare qualsiasi spazio un incontro virtuale con un personaggio collocato in un luogo storico un campo di battaglia un lager se pensiamo alla storia del novecento oppure un palazzo storico comunque aiuta veramente la cognizione di farci capire un luogo geostorico l'ultima mi avvio alla conclusione ho voluto mettere per gli studiosi spesso le studentesse gli studenti dei corsi hanno chiesto un approfondimento su queste offerte didattiche di tipo digitale per cui io vi ho messo veramente un elenco ma ce ne sono molti di più ma io vi ho messo quelli che uso regolarmente in cui è possibile diciamo così approfondire una serie di tematiche storiche è molto molto importante sono fatti straordinariamente bene perché ci offrono diciamo così una serie di lezioni a volte spesso già pronte che possiamo utilizzare si offrono tantissime tematiche e come potete vedere spesso ci offrono anche dei tools ovvero degli strumenti pratici che noi possiamo utilizzare proprio direttamente nelle nostre classi in conclusione diciamo che l'esperienza ventennale che ho nell'insegnamento e nello studio nella formazione in Italia in Europa e in Israele gli hanno permesso diciamo così di capire quali sono anche poi i punti chiavi ovvero mostrare agli insegnanti come applicare questi specifici progetti come integrarli con la classe e come diciamo così concedersi anche il tempo perché io ritengo che sia anche necessario farlo concedersi il tempo per poterli esplorare per poterli approfondire e poi diciamo così condividerli con la classe e condividerli e questo mi sembra eccezionale con il resto del corpo insegnanti questo fa sì che crea una diciamo una comunità di insegnanti studiosi che migliorano diciamo così la loro offerta didattica la didattica della storia diciamo così digitale ci offre una infinita quantità di strumenti che dovremmo soltanto diciamo così conoscere ed esplorare nel ringraziarvi appunto per l'attenzione ho voluto mettere questa foto degli anni 60 negli Stati Uniti in cui appunto si vedono questi bambini che leggono un giornale con occhiali tridimensionali è un'immagine storica ma che in realtà poi si getta un ponte diciamo così verso la didattica appunto del futuro vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti